Anteprima italiana a Milano per la Model 3 di Tesla, nello store del marchio in piazza Gaolenti. Dopo il debutto europeo al Salone dell'Auto di Parigi, sarà possibile salire a bordo e farsi raccontare tutti i dettagli tecnologici della più piccola e accessibile fra le vetture 100% elettriche della casa automobilistica fondata da Elon Musk, che continua a suscitare molto interesse nonostante i ritardi accumulati nella fase di produzione. La Model 3, infatti, è stata presentata a marzo 2016 ed è stata accolta da un record di prenotazioni online, 325.000 solo nella prima settimana, a fronte di un acconto di 1.000 dollari. Il lancio della vettura è avvenuto a fine luglio 2017, ma le prime consegne in Europa inizieranno solo a inizio 2019. Entro fine anno, per chi ha già effettuato la prenotazione, sarà possibile completare la configurazione della vettura online. Chi invece dovesse prenotarla oggi dovrà attendere 12-18 mesi per la consegna. La Model 3, già in vendita negli Stati Uniti con 56.000 consegne solo nel terzo trimestre, viene proposta in diverse versioni. Si parte dal top di gamma performance, con trazione integrale a autonomia di 500 km al prezzo di 64.000 dollari, fino al modello base, con trazione posteriore a 350 km di autonomia al prezzo di 35.000 dollari, tasse escluse. A breve saranno comunicati anche i prezzi per il mercato europeo, che non dovrebbero discostarsi molto da quelli del mercato americano.